Da un po che non gioca al lol e il team troll e ciccio gamer e cannelupo e ride fievic e ride L'emote di lol falli e mi spunta mentre guardo la tua stream Non conosco farsound e don roberto era e le reaction fieri che quando fai le reaction Eterno il team troll e il team c'è cos'è il team troll si è il team torsi Quando avrò voglia di rifare una live in cui faccio avanti e indietro con le uova per tre ore e faremo anche il team troll No non l'ho finito con il team ho le basi adesso devo mettermi lì e fare avanti e indietro con le uova da mattina a sera Beh e ah comunque la partita ieri ho fatto un game con danni l'ho vinto gli ho fatto vedere come si gioca Cosa fanno i grandi beh allora qua contro quel team Direi Direi Corvinite No lui potrebbe ah quello potrebbe essere un whimsicott arcanine Potrebbe essere un whimsicott arcanine E noi sappiamo quanto è cancerogeno whimsicott arcanine con la hidden Potrei mettere arcanine subito insieme a corvinite E' rischioso ovviamente però C'è roton wash però e voglio fare roton wash con tre Oddio ce la faccio in tempo Eh no perché arcanine attacca sicuramente eh vabbè però devo mettere roton wash lo stesso Quindi si chiama sto gioco minecraft Ferro torna rischioso anche se è forte Arcanine ci vuole per forza e poi io direi anche drag appunto dai proviamo così C'è un line si sto facendo una ranked Ma che gioco è? Ragazzi è in minecraft Non vedete? Pixelmon Vuoi togliere la squad? Ancora in live? Clap Che ne so Mamma mia Palle Togliamo ste squad Ecco qua Ovviamente start up con questi Io già me l'aspettavo Io già me l'aspettavo sinceramente Infatti gli ho messo sti due apposta Non c'è molto da fare Oddio lui attaccherà prima Potrei dynamaxare e mettere la pioggia È rischioso però Lui probabilmente io conosco benissimo quella combo Conosco benissimo quella combo Lui mi fa dynamax e mi fa Veramente i cazzi Quindi E metterà il fuoco Quindi preferisco mettere la rain così Non è free È un gioco di pokemon da oligan Di comprare la nintendo switch e pokemon scudo Cosa vuol dire che vedi male cernobili? L'ha lei zoomata male? Ed essere il tuo telefono Se sei da telefono Ah si sono da telefono Non so che dirti Ma ancora lì se facessi discorsi Scusate ragazzi Quanto gliel'ho predictato ragazzi Il Wimsy con Tarkhan Quanto gliel'ho predictato Wimsy con Tarkhan Anche io vedo il gioco Ah No avete ragione ragazzi Aspettate Aspettate Non riuscivo a capire Cosa intendavate Eeeh Devo aggiustarlo È il gioco zoomato Non la live Ok ecco Scusate era il gioco Perché io non capivo la live zoomata Il gioco è zoomato da ieri Ok Ho arretto easy Ragazzi gli ho predictato tutto Tutto gli ho predictato a questo Lui C'ha la bacca per l'acqua Benissimo Ma aspetta Ma Winsicott ragazzi Mi sono perso Nel vedere la zoomata Winsicott Raga che cosa ha fatto Ha fatto venti in coda Vero si Non ha fatto picchiadure Ha fatto venti in coda Venti in coda Lui non me lo Oddio proprio Potrebbe one shot Armelo Vuole andare su Corvinate Mettigli Arcanane È rischioso Oddio Per mettergli Arcanane È comodo in realtà Adesso con la rain Non so se potrebbe One shot Armelo Perché non ho più La bacca che regge Quindi con la rain potrebbe One shot Armelo Sì Voglio tenerlo lo stesso Faccio baldeali qua e Dai in afflusso qua Devo cercare di tirargli giù Il più possibile Fagli il più danno possibile Ah Ah li ha entrambi A picchiaduro Porca troia Sì abbiamo una combo Troppo forte questa Comunque Non è giusto Dan Rotom Wash Eh vabbè ma sta combo È troppo forte Come gli ho tirato giù Arcanane Io non capisco È l'unico avere Pokémon Eh Bisognerebbe avere Tyranitar Contro un Arcanane Del genere C'è un motivo La cosa che ha fatto Non capisco Boh Che schifo È veramente stupida Sta combo Troppo forte Sì Ray Periul Esatto Beh Non mi ha nemmeno Tolto la rain Ragazzi Cioè rendetevi conto Non mi ha nemmeno Tolto la rain Ha buttato via Arcanane L'ho distrutto Dove assolutamente Fare una mossa a fuoco Per togliere Lui magari si aspettava Che Che avrei cambiato Corvinet Ma non mi ha neanche Tolto la rain Eh lo so Anche se no Lo so Oddio Baccacedro C'è su Wimsicott No ma lì ragazzi Ha letteralmente Ha scappellato Perché con la rain Giustamente le mosse acqua Sono amplificate E E poi prima raga Gli ho tolto un cazzo Perché c'era il sole E aveva la bacca Che riduceva il danno Delle mosse acqua Ok Dracovish Conosciamo bene Cosa fa quel Meno che non dico cosa Io direi Togliergli Wimsicott Forse me lo volterà giù Rotom Non lo so Lui vorrà Togliermi giù Rotom Dracovish È più veloce Con venti in coda Perché anch'io Ho venti in coda Lui vorrà Togliermi Rotom Secondo me Non lo so Eh però Non posso Speccare un turno Di Dynamax Così Eh E invece Toglie Corvinet Ok Vabbè Uno dei due Doveva toglierlo Per forza Uno dei due Doveva toglierlo Ciao Pato Tuk Eh sì Un po' male L'ha fatto Come stai Pato Ha misclicato Secondo me Con Arcanine Non lo so Perché anche Attaccato Secondo me Pensava che Un cambio Di Corvinet Un cambio Non lo so Che cazzo Cosa cazzo Poteva pensare Questo Allora 20 in co Doveva essere Finito Per lui Adesso Finito 20 in co Sì Fammi vedere È finito C'è ancora Un turno Porca puttana Porca puttana C'è ancora Un turno Ancora un turno C'è Chi vorrà uccidermi Dragapult Sicuro Vorrà uccidermi Dragapult Non ho un protect Con Dragapult E forse mi servirebbe Mettere un protect Su Dragapult Sapete Non farà protect Con Dragapult Deve farlo dopo Perché è l'ultimo Sto turno Di venti in coda Questo Quindi Mi attacca Nonostante Venti in coda Sono più veloce Oh Gesù Questo sì Che è un cazzo Di Dragapult Con natura A jolly Cazzo Questo è un cazzo Di Dragapult Con natura A jolly Ottimo Ottimo Ok Ok Il Dragapult E OP Eh lo so Lo so Pato Ho visto E infatti Mi faceva Molto strano Molto strano Allora io direi che Ah beh giustamente My bad qua Giustamente Qua cosa posso fare Qua cosa posso fare Se cambio Rischio un sacco Potrei cambiare Potrei cambiare Così Dragapult Ce l'ho buono Per dopo Anche se No sì Non è male Tenere Dragapult Per dopo Perché Non posso attaccare Le Wimsicott Faccio così E così E prego Che vada Lui mi attaccherà Sicuramente Rotom Però non ci posso Fare niente Perché è inutile Tenere Dragapult In quel caso Almeno così Gli mando anche Meno uno L'attacco Ciao Lady Sì Su FX Guarda che Scone non è male Purtroppo Quel Wimsicott Avrei dovuto Tirarlo fuori Da un po' Ok Ok Non è molto Intelligente Direi Tuk Eh sì Bob È proprio Come sembra Smette anche Di piovere Questo è un bene Per Arcanine Lui è più Veloce Di me Devo provare Una cosa Del genere Non so Se se L'aspetta Ma devo Fare una cosa Del genere Assolutamente Sì Vuole tirarmi giù Arcanine E a noi va bene Se non mi Se fra pompa Ovviamente Perché Wimsicott Scompare Peccato che L'ha anche Baffato Quindi Arcanine Se ne va Oddio Non lo so Però eh Non è detto Eh A meno A meno uno Più fuoco Col cazzo Rotomai Brutto colpo Amen Adesso Ten ten No No Oh Oddio Sono miss Sono miss L'ha detto Dove l'ha missato Ecco qua Come si dice Come si dice Dalle nostre parti Come si dice Dalle nostre parti Che gli ho predictato Wimsicott Arcanine Possiamo dirlo Promossi Siamo silver Siamo silver Grazie Dei pl Sei anni Pato Sei anni Uno in più Per essere Ancora più Focussato Quell'anno in più Ha fatto la differenza Un po' di pubblicità Se a lei vi piace Cliccate sul tasto Abbonati Abbonatevi Gratis Quello tremo anche voi Ve lo chiedo Gentilmente O pagando 4,99 Così anche Questa domenica Sarà produttiva Cazzo Un po' di pubblicità Basta Non c'è più nessuno Rank megable Troppo alto No scherzo Main zed Oh È come fossi partito Dall'iron Scusami Chi non fa sei anni di riso Non ha capito Un cazzo alla vita Esatto Cazzo Esatto Avversario trovato Mi dispiace per lui Christy Attenzione Chi ha? Chi ha ragazzi? Wimsicotar Canine Allora Io direi Contro il suo team Gli facciamo La nostra combo per eccellenza Ormai Corvinet Rottenwash Ciao Ciao Mi chiamo Roberta Villa Sono una giornalista Ma sono anche laureata in medicina Sono qui lì sicuro Silveon Silveon Potrebbe sta Oddio Però Tanto danno fisico Ragazzi Silveon non è il massimo Contro quel team Mettiamo Ferotorn E Dragapult Ferotorn ci vuole per forza Fino lì ci siamo La domanda è Dragapult O Arcanine Al di là di Gastrodron Cosa c'ha? Chi mi dà fastidio ad Arcanine? Oddio nessuno No mettiamo Arcanine Allora vai Così Voglio andare Silveon Non va bene Contro quel team Ha un troppo danno fisico Hanno tre poche Poi magari Sono speciali E Dragapult E Arcanine Ma 80% Sono fisici Quindi Saranno fisici Secondo me Sì c'è Batta spaziale Ma solo quello E Arcanine Su che ha male Contro Rottenwash Cioè Predicted Predicted Ragazzi Eh Non è facile Scegliere qua Lui che Pocahon ci aveva Resistenti All'acqua Minchia C'ha Gastrodron Porca Puttana Ma io devo Togliergli L'Arcanine Le opzioni sono due O faccio Fulmia su Corvenet O idropompa Su Su Arcanine Secondo me Lui si aspetta L'idropompa Su Arcanine E mette Gastrodron Se così non è Sono piselli Duri per me Piselli Duri sono Prego Che abbia fatto Sto cambio Prego Che abbia messo Gastrodron No Snorler Va bene lo stesso Va bene L'importante Era non fargli L'idropompa Ok c'è la bacca Per resistere Al fulmine Va bene Dopo gli faremo Il doppio del danno Va benissimo Anche una paralisi Potrebbe essere Simpatica Ma vabbè Quello cos'è Snorlax Punch Chamburo Lo scopriamo Lo scopriamo Subito Ragazzi Io direi Qua Lo vogliamo Tenere Corrinet Non penso Che con Snorlax Possa fare Tanto Lui Però Chi metto Arcanine E gli vado Di zuffa Eh no Perché c'ha poi Anche blindo specchio Io direi Un baldealis Su snorlax E un fuoco Fatto pure Me l'aspettavo Se aspettavo Un altro fulmine Lui Se aspettavo Un altro fulmine Fatto Trespolo Che toglie Il tipo Volante E invece Si beccherà Questo Ok Ciao Carletto Dai danni Ah Che crittato Ecco Mi prego Un po' Tanti Effettivamente Fuoco Pugno Signore Attenzione Che palle Preferivo Usarla Per Arcanine Quello Preferivo Mille volte Usarla Per Arcanine Ok C'ha l'abilità Che usa Le bacche Metà vita Questo Vabbè Adesso Adesso Cosa vogliamo fare Contro Quello Sdorlax Ci trae un altro Fuoco Pugno Quanti turni Quanti turni ho Ancora Possibile Possibile Vediamo Vediamo No Lui Corrine Cosa Vuole fare Vabbè Corpo Corpo Scontro Punta Paralizzarmi Non l'ha fatto Peggio Per lui E io Metto Per un po' Te lo tiro giù Proviamo così Vedo che questo Non è fortissimo Come tizio Sta facendo Delle scelte Strane E sembra Che non voglia Togliere Corvinet Perché Vuole fare Di nuovo Venti in coda Al prossimo turno Non può Cambiarlo Adesso Quindi Corvinet Non lo Cambia Corvinet Non lo cambia Piuttosto Continua a fare Sta merdata Che sta facendo Ma non lo cambia Si becca Fuocofato Eh vabbè Pato Baldeali Cerchiamo tiragli giù Lo snorlax Come si può Ah Micchio Ho crittato In nuovo Ma che culo Porca puttana Che culo Riciclo Oh Gesù Che mossa Cancro Vabbè Poco male Dunque Ok Adesso è il turno Dei venti in coda Quindi la faccio io La fa lui Gli tiro fulmine Su corvinet Così facciamo in modo Che non ce l'abbia Nuovamente Dopo Eh pato Meno male Era un po' Tanto Ma tanto Gli ho dato fuoco Cioè Peggio per lui Ok Vuole rifare la combo L'avevano capito Nulla di strano Gli tiriamo un bel fulmine Perché tanto lui fa Beh Fa Sappiamo cosa Ci caccia venti in coda Io caccio venti in coda E a noi va bene Sta rischiando un'idropompa Contro quell'Arkaline Anzi Adesso vi dico cosa fa Adesso vi dico cosa fa Lui Dynamax Arkanen Mi va su corvinet Me lo vuole tirare via E noi abbiamo bisogno Di Che questa cosa Non accada Noi abbiamo bisogno Che non accada Questa cosa Questo Oh no Questo qua è troppo È troppo È troppo Gli trompompa su Arkanen Va meno uno Anche il nostro Di Arkanen Però anche il suo Che è quello più pericoloso Giustamente Perché È quello che attacca In questo turno Mentre il mio non attacca Ok Dynamax Io non l'ho fatto Perché anche io Ho un Arkanen E spero che sia più veloce Del suo Perché non so Che oggetto abbia Il mio è Jolly Il mio è Jolly Ovvio Ovvio E mi mette anche il sole Quindi preparati a salutare Corvinet Proprio digli ciao Con la mano Anche se lui Potrebbe a questo punto Cambiarlo Giustamente Potrebbe a questo punto Cambiarlo Se aspettavo un altro Fulmin Su Corvinet Probabilmente Si becca I propompa Che non fa un cazzo Di danno Giustamente Perché Provi motivi C'è il sole È ok Adesso noi Gli avulanti Era giù Il suo Corvinet Non rimetterlo a Snorlax Lo ammazzerebbe Voglio togliere danni da fuoco No Non mi conviene Bisogna presto Fuoco carica su di lui Proviamo Uno che si annoia Se metto la rain Faccio anche Ok Invece ha voluto Sacrificare Snorlax Piuttosto che Corvinet Va bene Va bene Lui adesso Si aspettava questo Probabilmente mi ammazza Esa Ah no Ma su Rotom Campo elettro Mi hai messo Va bene Non mi cambia nulla In realtà Altra idropompa Snorlax saluta Ah Eh non voglio Non voglio mettere la rain Dragapult mi metti Dragapult mi mette Devo tirargli via Arcanine Devo tiraglielo via Arcanine All'ultimo turno Si all'ultimo turno Non so Dragapult Cosa abbia Non voglio Specare un turno Con Dragapult Facciamo doppio Facciamo doppio Elettro su Arcanine Che c'è il campo Elettro Vasto impatto Gesù Che mossa è che non conosco Ma che cazzo E vabbè Ma crittato Vaffanculo E vaffanculo Ma crittato Arcanine E adesso ragazzi ho Ferotorn E' fortissimo Ho notato Cioè ma crittato Però Forse morivo lo stesso Non lo so Fammi vedere Basta attacco Non è un problema Basta impatto Ma c'ha 60 di danno Ma c'ha 60 di danno Questa Non posso mettere Ferotorn E' un suicidio 60 di base Ho già scritto Comunque Quello lo sapevo Allora Pur vasto impatto Dà molto Fastidio Che palle Sto Arcanine Non riesco a buttarglielo giù Perché c'è sempre il sole Forse è reduto Da in ammazzare Rotom Ma porca puttana Sta 60 stab Ma che danni sono Vabbè Niente Abbiamo Ferotorn Ragazzi Io non so cosa posso fare Adesso con Ferotorn Contra quel team Tutto perché Noi abbiamo tirato giù Arcanine Niente Ha vinto Arcanine Vasto impatto Dovrò Rivalutarla Perché Non la conosco Sta mossa Non so cosa sia Evidentemente È forte Eh Eh sì Bagazzi Eh sì Questa quant'è Welcome Welcome to the Furix Army Camperboso Mi può far comodo Ah Preghiamo raga Che gli vada giù Porca puttana Ok Sta mossa Va bene Sbranz Grazie del Prime Grazie tante bro Se un crità Non ti uccideva Probabile Non lo so Non pensavo fosse così Forte Tutto qui Nulla Fa danno e basta 60 di potenza Tipo Drago fine E basta Vabbè E grazie anche a Gabuiri Benvenuto anche a te Bro Nella Furix Army Benvenuto bro Eh vabbè Per 4 raga Con anche Il sole Vabbè dai Quell'Arcanine Ci hai distrutto ragazzi Senza Arcanine Nonostante il Drago Agapult avremmo vinto Senza problemi Eh gli sarebbe morto Ovviamente Peccato Dovevamo Dynamaxare subito Rotom Dovevamo Dynamaxare Rotom E mettergli la Rain E cercare di toglierlo subito Perché era l'unico punto debole Che avevo Ciao Biagi Però Era l'unico punto debole Perché è l'unico Che mezza la Ferrothorn Però gli altri Me li ha ammazzati Poi Con Dragapult Quindi insomma L'esplosione stile Medioggi Cosa vuol dire Ciabatta In futuro Probabilmente si Activate Adesso non Non è nel mio interesse In realtà Non ho idea Gaburi Su sbaglio Falso Finale È una Non so se è una DT O un MT Forse è DT Emerald Senza l'H Però Emerald Senza l'H Lui inizia Era Winsicott Qualcosa Winsicott Bravery Forse Ha già le idee chiare Voglio dire Ha già piccato Va bene Io penso Che la combo Iniziale Anche doppio Folletto E doppio Drago Qua Draga Pultraga È rischioso È rischiosissimo Però anche Doppio acciaio Però Silveon Penso ci voglia Però anche Tanti danni fisici C'ha il fossile Il fossile È devastante Io direi Corvinet Rotom Il nostro Start classico Direi Ferrotron Silveon No Però anche Arkanen Fa comodo Contro quel team Però Ha due Tipi lotta Per il nostro Ferrotron Non so Se mettere Silveon Più che altro Eh Fa comodo Però Silveon Ferrotron Silveon E Arkanen Mettiamo Vai Niente Ferrotron Ok Andiamo un po' Rotom Rotom Come ce l'hai Il Rotom Ce l'ho Calmo Se non sbaglio Lucca Aumenta Difesa Speciale Ok Vado a settare Ovviamente 20 in coda E qua Devo settare Un fuoco Fatto Su Lucario Prima Prima che Mi one shot Tutti Ricordo Lucario Il più Fisico Speciale Perché so Che ha Entrambe Stats Alte Però Non mi Ricordo Quale Più Dell'altra Lucca Giurato Vediamo Un'altra E invece No ragazzi Ha poco più alto L'attacco Speciale Cosa è successo Raga Dove è il fuocofato Dove cazzo è andato Il fuocofato A scampia Come sempre Ah si è protetto Ok Beh sa cosa Ok Pardon Io non Ok adesso Concentriamoci Velocità 90 Ovviamente Attacca Prima Però chi mi ammazza Eh Bisogna vedere Che mosse ha Non lo so Cernobilli Ah beh Ovvio che fa Questa combo Che cazzo Non fatemi dire Cosa Justice Ma esattamente Un pokemon Con Già Con Justice Con l'attacco A più 6 Come dovresti Ammazzarlo Esattamente Cioè Qual è la tattica Per tirar giù Un pokemon Così Ah ok Pato Giusto Vabbè Ho già perso Raga Ma che divertimento C'è a giocare Contro questo Che divertimento Che divertimento C'è Ah Le annulla Proprio Patro Che poi È sempre Più veloce È sempre Più Veloce Arcanendor Sarà più Veloce Quel babbino Capito Pato Probabilmente Lui Si parla Di nuovo Ma Devo farlo Devo farlo Per forza Devo farlo Per forza Questo Perché Al massimo Sprechiamo Entrambi Un turno Di Dynamax Tanto 20 in coda Abbiamo Entrambi Mega Mega Lucario 2.0 Adesso Dipende tutto da questo Il mio Arcanine dovrebbe essere più veloce Oddio Non so come l'hai usato lui Però Il mio jolly Il mio Arcanine Se è più lento e muore i ragazzi Alta F4 C'è Ok Ok Queste sono le cose che voglio vedere Cazzo Queste sono le cose che voglio vedere Ma beccati sto Arcanine jolly Affanculo a quelli che lo fanno Dio boh Non lascia stare Bella Agostino Ok Ok Meno male Come come un riccio Un riccio pelanato Oddio Doveva ammazzargli Quello La Ragazzi La sua La sua mossa principale Che tipo di danno fa? La sua mossa principale Cioè Che tipo è? È drago o acqua? Drago? Tipo acqua Invece Ok Tipo acqua Ma che ne so Ciabatta So bene cosa fa Apato Però non Togliarmi corvinite Un tratto Togliarmi corvinite Secondo me No Se no fa doppio su Arcanine Giustamente Eh sì Va bene Cioè va bene Va Non è che va bene Ce lo facciamo andare bene Più che altro Cosa vuol dire che è jolly? È la natura che toglie Che toglie attacco speciale E aumenta la velocità Ok Per fortuna ragazzi Che c'è il sole Per fortuna Che nonostante tutto Gli dimezza il danno Delle mosse acqua Quindi insomma Ho qualche possibilità Ecco Di reggere un colpo intero Sì sì Altri tre turni di sole Sì è shiny Voglio mettermi giù Ovviamente Sylveon Dai Non attaccherà Prima anche con l'altra Su via Non attaccherà Prima anche con lui Ho perso Ho perso È crit È vaffanculo Forse potevo resistere Ma ce l'aveva ancora 20 in coda lui allora Ho sbagliato io? Aveva ancora 20 in coda? No È lentissimo Sylveon Immagino invece che Pescagon Con i suoi 60 Di speed è veloce Vediamo un po' cosa possiamo fare Io ho 20 in coda Io ho la speed control Bravery usa protezione Non so per quale motivo Forse fa doppio protect No Perché aveva dovuto attaccare i Bravery Secondo lui? Così Secondo lui doveva farlo Sì è bruttissimo Ma lui ha No non ha altri Pokémon È uno contro uno adesso Eh man Voglio vedere Lui però c'ha mossa e lotta Però non penso c'è un cazzo Ha perso Ha perso Cioè piano Non cantiamo di tre troppo presto Però Cioè io Sono tipo acciaio Come me lo tiri giù Eh Prova il tutto e per tutto lui Allora calma Ho ancora uno di 20 in coda Trespolo Lo so che ho la zuffa È ovvio si gioca con quello Lui vuole andare di protect Non ci credo che non Che non faccia protect Ok Ok 80 di velocità Trespolo Altrimenti ti kill La metal testata Ma che vuol dire Scusami E se fa protect Ho perso È quello il fatto Se fa protect Ho perso Per me fa protect Lui Dove predictargli E lei invece non ha fatto protect E invece non ha fatto protect L'avrei ucciso Porca troia È vero che mi tolgo anche il tipo Porca troia Ho perso Era 50 e 50 Ma trollata cosa Ma era 50 e 50 Perché mi dovete dire trollata Cioè scusami Allora Io invece Li facevo Baldeali Lui proteggeva E il turno dopo Cosa facevo Cioè scusami Adesso mi dici trollata Io avessi Se io avessi fatto Baldeali E lui avessi protetto Cioè Mi sarebbe ucciso Con una zuffa Come no Certo mi sarebbe ucciso Avevo un terzo di vita Se non facevo trespolo Vaffanculo va Cioè era 50 e 50 Dio mutanda Dio libro Dio bambin Gesù Ma cosa c'entra Domo Cosa c'entra Che non per il contracolpo Il punto è lì Allora Le opzioni erano due Allora Voi non capite Se avessi fatto Baldeali Avevo l'ultimo turno Di venti in coda Cioè l'ultimo turno In cui ero più veloce Di lui Ok Quindi Io Potevo puntarlo Ammazzarlo Con baldeali Cosa più logica Da fare E lui poteva farmi Protect E aspettare il turno Dopo in cui lui Sarebbe stato più veloce Di me E me lo avevo Un shotato Perché avevo un terzo di vita Capito E lì E lì Non avrei potuto Fare niente Sì Metal testata Passo le barriere Con metal testata Magia proprio Passo i caselli Come a Napoli Se non capite Quello che dico Ora è inutile Che ve lo spiego Purtroppo Mi dispiace per voi Rotomerba Me lo vorrei mettere Contro il mio Logicamente Non so se starterà Con quello Io potrei startare Corvin e Tarkanain Corvin e Tarkanain Potrebbe essere Un ottimo start Contro il loro team Dopodiché Sylveon Direi che È un ottimo pick Sylveon E Potrei andare Sylveon Ferrothorn Questo morto È fossile È una mossa Che è illegale Però non capisco In sto team Non c'è nessuno Conventi ancora Giocano solo Quello ragazzi Ciao Vali Fine ragazzi Fine ragazzi Distorto zona Con Con Tyranita Rexabril Beh Beh Capisco che abbiamo visto Tante di cose Però Allora Qua Voglio fare una cosa Cioè rischiosa Dio Voglio giocarmela Tutta In early game Noi abbiamo Noi abbiamo anche Sylveon Che non possiamo Minimamente mettere Adesso E Ferrothorn Che è Molto Forte Per due Sottoterra Impesto Ok Devo arrivare A baffare Arkanen In In speed E in attacco E deve vincermi da solo Probabilmente Lui andrà di frana Con Con Tyranitar Io Me lo posso Baffare A schifo Proprio Forse Exadrill È più veloce Però Ho paura Io Ho Jolly Però Non so Quanto Aumenta Non so Quanto È veloce Sottoterra Nannoldo Ma Buono Anche Se Basti Metti Distorto Zona Perde Scusa Cosa fa Che ha solo Pokémon Veloci Cioè C'era I Tyranitar Exadrill Con quelli Lì Ma che lo Metta Pure 160 Base Cazzo Vabbè Ho fatto Comunque Benissimo A fare Così Perché Dovevo Farlo Tuck A casa Oddio Non me l'aspettavo Ecco I due HP Lì Hanno fatto Male Porca Puttana Vabbè Vabbè Comunque Ottimo Taranitar Rosafrana E il mio One shot Perché è così Che si gioca Taranitar Nel 2019 Purtroppo È così Che si gioca Qua dire Che non c'è Molto Da dover Scegliere Comunque Io provo Che quella Bacca lì Sia troppo Forte Su Taranitar La giocano Tutti Fortissimo Che schifo I poveri Riccardo Donate 2 euro Di Sia esistruist Grazie Riccardo Della donation Mi porterà Molta fortuna E grazie Anche a Thor Thorfinn Benvenuto Per una Freakstar Grazie Il tuo Prime Sì Che abbia Più 2 In attacco Quindi Cioè Sostituirlo Per lui Adesso Boh Però Sono sostituiti Cioè Taranitar È morto Ha fatto Il suo Mi ha one Shottato Ha fatto Il suo Fine Lo so Quante Lo so Però volevo Buffarmi L'attacco Non pensavo Mi facesse Doppio It E mi ammazzasse Così Ok Non penso Exadrill Abbia mossa E lotta Sinceramente Ok Comunque Si ragione Potevo Fagli Zuffo Ma io Non ho Demna Max Lo so Che avrebbe Tolto Meno Però L'ho Fatto Perché Sapevo Che Mi arrivava L'hit Direttamente Da Exadrill Non Sapevo Quanto Riuscisse A tank Ho voluto Fare Così E Sicuramente Non era Sbagliato Però È rimasto 2 HP Cioè Purtroppo Oh È tempo Di succhiare Qua Succhia Succhia Guarda Che bello Mamma mia Che bello Ferrothorn Quando fa Così Quando Succhia Come Succhia Ferrothorn Non Succhia Nessuna Ragazzi Duraludon Ok Vado di protect Qua Devo andare di protect Perché Secondo me Deve Trarmelo giù Il prima possibile E Il prima possibile Vuol dire Che andrà doppio Secondo me Vediamo subito Ebbè Ok Difesa speciale Sarà un grosso Problema Frispolo Ebbè Ho protetto Pato Ciao Rem Aia Non me l'aspettavo Ok Se avesse lancia Fiamme Lo riesce Fare su Ferrothorn Non mi ha tolto Un cazzo Principalmente Giustamente Ho fatto Trespolo Vai vai Succhia Ferrothorn Succhia Come la puttana Che sei Succhia Cazzo Qua Io direi Che non c'è Molto da fare Trespoliamo E Parassissiamo Non mi Non mi doveva Morire Arcanine Comunque Così Mamma mia Non pensavo Che quel Frana Mi One Shot Tasse Ma io Sottolineo Sempre Quella Bacca Che Spenso Una Delle Bacche Più Forte Esistano Continua Baffarsi Sua difesa Speciale Quando io Faccio Danno Fisico C'è Più che Altra È l'unica Mossa Che fa Un po' Di Danno Però C'è Se mi muoiono E arriva Silvio Silvio Non fa nulla Quindi È meglio Che non muoiano Però Contro questi Due Non combina Granché Schiacciacorpo Fa Quack Oh Oh la madonna Ok Viate spine Ferrate Viate Persi Seme Ok La bacca Di Arcana Cioè sì Che ha usato Guarda qua Che cure Mamma mia Lui sa che adesso Farò Protect Quindi penso Vuole andare doppio Su Corvinite Forse La bacca Di Tyranitar Quella che Quando subisce Una mossa Super efficace Aumenta di due Attacco E attacco Speciale Quindi è rimasto 2 HP E tirato Frana E buonanotte I danni Non me li dico Vulnera Polizza Sì Quelli Qua Non posso Non posso Fare Molto Lui Magari Sostituirà Qualcuno Perché È una situazione In cui Contro Ferrate Non può Far Nulla Non so Se c'è Il fossile Potrebbe Il fossile Dottor Mondo Come Rammus Anche se Sì Rammus Con Con la Wormog Questo Immagino Che lui Lo sappia O forse No Forse Non lo sa Ebbè Qua Non c'è Molto Da fare Ok Eh Questo Non è Ok Però È Sto 30% Porca Puttana Il 30% Porca Puttana Eccolo Qui Doppio 30% Perfetto È Quello Che Volevamo È Quello Che Volevamo Ragazzi Per Carità Non è Molto Sveglio Questo Va A mio Vantaggio Però Quando Accadono Ste Cose Ragazzi C'è Veramente L'RNG È Orribile Vabbè Non è Sveglio Ma A culo Sono Morto Tanto Corvinette Morto Non voglio Cambiare In Sylveon Perché Tanto Poi Avrei Un Corvinette Dopo Inutile Quindi A sto Punto Facciamolo Morire Corvinette Niente L'RNG Mi ha ucciso Corvinette Non Niduraludon L'RNG Mi l'ha ucciso Rip Rip Corvinette 2019 2019 2019 Morto A causa Delle RNG 30% Possibilità Di Paralizzare 30% Possibilità Di non Attaccare Da Paralizzato A 50% Pensavo Una volta Era 30% Forse L'hanno Cambiato Ma Ferotorn Ha colpito Ha attaccato Cosa ha fatto Ferotorn Che io sto leggendo La chat Non dovrei leggere La chat Ha missato Ah Fantastico Nulla Perfetto Come sempre Insomma Nulla Di nuovo Gli ha Evitato L'attacco Uguale Ha succhiato Vedo Tergli giusto Babuino Di extra Del dio Santo Mori Ah ok Ai 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 Va bene Mi attacca Ferotorn Facendomi niente Come al solito Di un attaccare Del 25% Ok Buono Tu 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 Però cosa vuol fare Con quel Pokémon di merda Lì adesso Vorrei capire Cos'è Cos'ha Fuoco Fuoco Fatuo Qua non c'è Molto da fare Direi Tanto Tanto attacca Con entrambi Sì infatti De santo E beh Fuoco Foco 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 Lo sapevo Che andava Così Cioè L'ho messo Anche per Questo È il suo Unico Modo Che ha Per fare Qualcosa Addio Sylveon Invece No Perché L'ho messo A modo Ok Mamma mia Ferotorn Devi salvarmi tu Ferotorn Devi salvarmi tu Succhia Succhia Come non ci fosse un domani Qua Io direi Ragazzi Non c'è Molto da fare O no O no Mamma mia Il turno Della protezione Il turno Del preservativo Facciamo Bella Manz Chiusa Rotto In competitivo Tutti Manz È il poco Più piccato Nel Nel Per adesso In assoluto No Doraludon Veramente È debole Come Cioè Non è debole Cioè È È semplicemente Inutile Per quanto Mi riguarda Perché È un Pokémon Che ha Un ottimo Tipo C'è Acciaio Drago Però Mi sembra Poveretto Poveretto Clic 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 Apposto Ecco E sì Certo Certo Perché io te lo lascio anche fare Vero Sì Pato Quello Intendo Ovviamente Cioè È inutile Appunto Perché non ha Utilità In confronto Agli altri Intendo Quello Tante salute È infatti Pato È quello È Capparina Però Vuoi mettere Così Sono entrambi Ok Beh Qua direi Che non c'è Molto Da fare Un genio Un genio Sto tipo KD Non è che È un genio È che Non poteva Far niente C'aveva Parassi Seme E io Avevo Un turno In cui Potuto Usare Doppia Protect Cosa Faceva Ballava Non poteva Far nulla Ciao Giulia Addio Giulia Sei Aleo Io Il meta Non te lo So dire Mi dispiace Proprio Sono pokemon Per me Che fino a tre settimane fa Non esistevano Quindi non so dirti E fino a poco fa Pure non esistevano Perché Figurati Allora ragazzi Il punto di Feroturn È questo Feroturn O ti carria O viene one shotato Ad una mossa fuoco Come è successo Contro l'Arcanine di prima Non ha la via di mezzo Cioè non è un Feroturn In cui Dà La sua utilità E poi No no Feroturn O ti vince la partita Solo Anche ieri sera Con The Large Ragazzi Dopo che abbiamo fatto La live Mentre dovevamo aspettare Tear Siamo messi lì a giocare Cioè Gli ho fatto vedere Una ranked Alla switch Ho fatto una ranked Feroturn Ha vinto da solo 1v2 Con doppio per assieme Ha vinto Lo spot finale Eh Esatto Manz Quindi è debole Alla lotta Però è per due E visto che è Tancosissimo E E poi mettere Dynamax Poi Dynamax Area E aumentare la difesa Col Dynametallo Che sia lui O Corvinet Possono aumentare la difesa Quindi lotta Non tanto Ma fuoco E Muore Contro il fuoco Non ci può fare nulla Quindi Quando ho Feroturn in team Bisogna ammazzarli Quante volte è capitato Raga Con Feroturn in team Sei contro Arcanine Cioè contro I Torquall Ma nelle Trick Room C'erano i Torquall Ho vinto Un game Perché Ho tipo sacrificato Tre Pokémon Per ammazzare il Torquall Poi ho messo Feroturn E ho vinto Da sempre Da nullo Dalla seconda Ma da dove cazzo Subboard ieri Parti ieri Non abbiamo fatto Subboard Ma ieri l'altro Non lo so In settimana Beh 2-1 abbiamo fatto Di cui l'ultima Potevamo vincere Come ho detto Lì c'era il 50-50 Per quanto mi riguarda Qualcuno ha detto Fieric ma no Sopravvivevi Secondo me no E secondo me Era più logico per lui Fare protect E aspettare Che io E aspettare Diciamo La fine del mio 20 in coda Per attaccare prima Cioè sai di essere più lento Fai protect Lì ha fatto Semplicemente un over predict Ha predictato Quello che Che gli avrei predictato io E ha vinto così Era 50-50 Perché facevo Se avessi attaccato L'hai vinto Se avessi attaccato E lui avesse fatto Protect Avrei perso Contro quelli bravery Va bene ragazzi È tempo di salutarci Probabilmente Sarò in live anche stasera Perché non penso Di avere altro da fare In realtà E sapete Domenica È giorno di riposo Ma essendo che sono a casa Vado in live Se non ne ho voglia Magari non stream Però Se non ho un cazzo Da fare Torni in live No problemo Davvero